Capiscono Vuoi una cembella? No Ma che devo fare? Torni dentro nel mentre, non ho detto di uscire Minchia, questo leader è una mazzata in testa, giuro, a sto coglione Mi sa proprio di sì Un drink, non vuoi un drink? Vorrei che mi levassi queste cazzurri manette e mi dessi dei vestiti da poliziotto Che mai l'avete? Non ho capito E che non sento bene all'orecchio sinistra, aspetta, ora ti sento meglio Nulla, non voglio la tua cembella Ma no, infatti ti posso dare qualcos'altro Tipo? Devo rivedere che cosa ho in mezzo Accompagnami in mezzo, dai, diamo un'occhiata Ma non posso È pieno di poliziotte Ti smaccino in favore, te lo porto io, così ti godi un pasto ottimo No Voglio sceglierlo io, se è possibile Come? Vorrei andare io a scegliere il messo del cibo da mangiare Non mi fido del cibo Ho capito, ho capito, non dire altro Sta fermo qua Check Lei non era così signor Marrazzo, noi avevamo altri due deteciti, io ho ancora il suo numero Sì, sì, certo, siamo noi Finiti così in carcere Chieda a Castellano, le racconterà tutto lui Abbiamo parato per mezz'ora, gli ho spiegato tutta la mia versione, quello che è successo Non si faccia ingannare da un'idea adesso Il pollo? Caduti in basso Mi spiace per voi Il pollo? Abbiamo capito, non ragiona, procuratore Il pollo va bene? Questo non lo flammo No, no, no Caduti in basso in che senso, procuratore? Si è informato almeno di quello che è successo Avete stato dalla centrale Beh, capisco Quindi il suo lavoro è basarsi su quello e non ascolta altro, capisco Come ha ottenuto questo posto? Siamo pronti? Studiato Hai studiato? Beh, è proprio vero, a volte si può studiare ma l'intelligenza rimane quella Sì, esattamente Non sembra neanche un tipo troppo sveglio Come cazzo ha fatto a riprendere questo posto? Sembra un po' addormentato, scusi se io lo dico, però non siamo un tipo astuto Un mezzo rincoglionito E poi? Non aggiungere altro Basta questo in realtà Basta questo Vorrei ne fosse consapevole e basta La vedo da come parla Si, si Si vede che non è un astuto Procuratore Sì, di Manetalo, manetalo Stai discutendo con questo qui, ma a solo stare È il più addormentato che abbia mai visto Non riesce a guardare oltre mica il suo naso Letteramente mai visto e viene qui caduto in basso Chissà che ha dovuto fare per diventare procuratore Andiamo Assurdo Procuratore Incredibile realmente Mesi di lavoro mai visto Vabbè ma ci sta Si vede che uno è molto impegnato Esattamente Ok, muoversi dai Muoversi Criminali Stiamo arrivando Criminali Si, hai presente tipo il bambino quando sei all'asilo Guardalo Quando ti stai allontanando che ti dice l'ultima L'ultima cattiveria Mentre ti stai allontanando Però quando ti stavo parlando sta zitto Criminali Brazzorf Ma è un procuratore quel tipo lì che sembrava bubu Eh? È un procuratore quel dormiente lì in piedi Quale? Boh, quello lì in fondo Non vedo procuratori Ah, non è un procuratore Ah, quello lì? Sì È un procuratore Ma è un procuratore chi? Salite in macchina su Non mi sento ragazzi Salite in macchina Ci sono problemi qua con Procuratore È un procuratore quello sì Perché? Non lo so Non sembra un'autodatto Non potrò portarti in questo modo Perché Che è un procuratore Mi sembra un procuratroia al limite Può essere Ti peggiora solo la stazione Smettetela Sì, sì Siamo a mezzo Minchia cazzo Siamo strevolanti Possiamo Quattro Eh sì Ragazzi tranquilli Non facciamo nulla Non si è riduta questa scorta Siamo ammanettati poi Non serve Strangolo il tipo da dietro Minchia Comunque c'è una differenza abissale Tra alcuni Cioè Tipo quel castellano Bravissimo Parlava Ruolava Ragionava E tutto Minchia tipo quel procuratore Ma voi ditemi Ma come Come cazzo è diventato procuratore Un rincoglionito simile Cioè E quello è oggettivamente Uno stupido Cioè È proprio Un babbeo Si vede come parla Tutto lento Con quel tono di voce D'addormentato Ma come cazzo è diventato procuratore Cioè Cosa ha fatto per diventare procuratore Cioè Io non capirò mai Perché nei server danno Ha rincoglioniti simili Gente che non si regge in piedi mentalmente Stupidi Dei ruoli Così Importanti Che dovrebbero coordinare E far girare il server Cioè Secondo quale logica Ma cazzo Quando è esploso un aereo Per colpa di una bomber Grazie bro Minchia Eravamo lì Eravamo lì in due gatti Cioè Un dormiente Adesso che siamo qui Che ci stanno portando in In carcere Guarda qui Quante Quante volanti E' molto più svegliato Non c'è storia E' diabolo E' proprio veramente un bot Cosa No No dico Per una bomber Solitamente C'erano due gatti Adesso che stanno portando noi Guarda qui Quattro pattuglie Cinque pattuglie Cinque pattuglie Sì Affermativo Eh ma sai cosa Quando c'erano Siamo più pericolosi No 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 Quando c'erano le operazioni Era molto difficile Perché dovevamo Era molto difficile Per il body cam No Molto difficile Body cam distrutte Body cam rotte Non ho capito La body cam attiva Ma cosa sta In che senso Ah è vero Eh con qui E' difficile parlare Marrazzo Fussi te non ci proverei Nemmeno Non riesci a seguire Il discorso Solitamente risposta Corrisponde con cose Che non c'entrano nulla Ma stiamo parlando Una lingua diversa In saga Solitamente tende O a rispondere A cose che non c'entrano nulla O dire va bene Quindi E' tempo svegliato Eh no ma mi sa Che c'è un problema Di fondo Mi sa che parliamo Due lingue diverse Eh certo Mi hai risposto Dicendomi Boh Le body cam Ma Ah dai Voi dovete capirli Comunque ragazzi Sarà rosicando come non mai L'abbiamo rotto il culo Cioè ci sta Questi saranno tutti quelli Che tipo quel queen No Secondo voi Non si è morso la mano Quando prima l'ho rotto Letteralmente Cioè Questa è tutta gente Che è stata stompata Si è ritrovata Si è ritrovata a terra Si sono stati detonati E quindi si sono ritrovati Tutti i eventi a terra Come dei polazzi E si stanno Ammorsicati le mani Quindi Adesso chiaramente Sono qui che ci portano In cella Tutti Tutti incazzati Poi dovete capire Che per molti O la cosa gliela dai tu Così no Che vai Ti fai beccare E guardami Sono uno che ha sparato A tutti Ora puoi fare La tua roba da poliziotto Se no Non stanno nemmeno Capito a A indagare O altro Mi ne frega un cazzo Cioè Si limitano a fare le robe così E basta dai Ora stanno facendo La loro Trasportino Solo perché siamo stati noi Che siamo Praticamente consegnati Ma guarda quanti cazzo sono Raga Cioè Assurdo Dove è quello visibilmente Incazzato Ammanettato E rinchiuso Scuriattolo Ah Casa dolce Casa Alcatraz Non penso che si possa scappare Vabbè no dai Quella La roba era greve Cioè Sparare dentro la centrale Fidati Non era una roba da poco Ci sta tutto il bordello Ma ci sta anche che siano in tanti a scortarci Il discorso è Però per le altre robe Non c'è mai nessuno Aspetta aspetta La piscina Guarda quanta gente Minchia Datemi un Non lo so Una whale gun Qui su Rebeard Levatemi queste manette E datemi il movement di Del vecchio warzone Che questi Ce li buttiamo tutti a terra Un mp5 Ragazzi ma quanti cazzo sono Giuro Infiniti Infiniti Un ripulitore vecchio stile Un gallo raga Un gallo Un gallo Un gallo Un gallo Più a destra Più a destra Per aprire Aspettate Guarda guarda tutti Full Full Ma quanti saranno 20 30 Sono una trentina Almeno secondo me Di qua Eh Adesso Qua qua Ma nelle date Mettete di qua Ma saranno ancora dove stiamo andando Giura Qua 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 va bene ragazzi Qua va Signori adesso faremo una perquisizione Prima di entrare ovviamente nel penitenziario Seguiteci uno alla volta Mettetevi qua La quindicesima della giornata Chi viene per primo Ragazzi che qua dentro stiamo solo chi deve fare le preposizioni Vai Marazzo Venga lei Vai Marazzo Dove devo andare? In che addirittura? Aspetta Prenda ci sta Ok Adesso le tolgo le manette Si tolga i vestiti Aspettiamo che finisca a brazzo Anche se lo vedo nudo Non è che mi scandalizzo Io rientrate Vabbè Posso anche vederlo nudo Non è che Non tutti Va bene Si spogli Contro il muro Ok Avrà la bocca Si abbassi Ok Si può alzare Alzi le mani Sto controllando se ho degli ovuli nel culo Ok Perfetto Ha qualcosa di nascosto dentro di lei Sicuro? Si Nulla Perfetto Può riprendere i vestiti Mi porca le mani Non ci lasceranno ammanettati dentro Alcatraz Non ci lasceranno ammanettati qua dentro Mi auguro Controlla i labbocchi Vado a basso Puso le ginocchia Madre Rivestiti Un attimo Si abbassi sulle ginocchia Si abbassi Non mi sono infilato niente nel culo Hai arrabbiato collega? Ok Si può alzare Ha qualcosa da dichiarare Qualcosa dentro di lei Può anche parlare Non serve che se ne va così No Ok Si può rivestiti Cane Che succede? Con chi sta avendo di verbi? Con un collega che si è andato Come l'hai chiamato diavilo? Cane Si Eh vabbè Si sta Dov'è? Dov'è? Ne parliamo in elicotteria Vabbè Vabbè dai Buona 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 Buona